Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella se volete ricevere le notifiche, lasciate un mi piace Ah no, questa era la conclusione, devo partire dall'inizio Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale Oggi è un video un po' diverso, ho deciso anch'io di dire quanto guadagno col mio canale YouTube visto che da diversi mesi ormai lo stanno dicendo tutti Prima di dirvi la cifra esatta però vi invito a guardare i miei contenuti sul canale perché io porto dei tutorial interessantissimi, utili, utili, molto utili e infatti vi risolvo la maggior parte dei vostri problemi Qui c'è la schermata del mio canale, adesso vedremo precisamente quanto ho guadagnato finora Prima però una domanda Secondo voi, quanti soldi ho guadagnato? Cioè voi, quanti me ne daveste? Me ne daresti voi? Me ne avete dato? Tutti i video che ci sono in giro su questo tema durano troppo 10-15 minuti in cui gli YouTuber spiegano quanto hanno guadagnato In che modo? Con gli annunci, con le affiliazioni, con le collaborazioni, con i brand Il mio durerà poco perché se no, che palle Ma poi, la schermata del mio canale è questa Ma se non ho guadagnato niente, no? Ma che vi devo far vedere? Che vi devo dire? Grazie per aver guardato questo video Io e la mia povertà Vi salutiamo